Ciao, ciao a tutti, bentornati, benvenuti sul canale. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Oggi è martedì e devo farvi vedere che cosa mi ha portato la mia dolce metà da Barcellona. Allora, qualche tempo fa ho visto un video di Elisabetta R, ciao Eli, che parlava di profumi di una catena che c'è in Spagna ed è la catena di Mercadona che presumo sia una catena tipo di supermarket, grandi supermarket tipo la nostra Lidl oppure anche il DM dove ci sono davvero un'infinità di cosine sfiziose e carine per quanto riguarda sia i profumi che il make-up oppure la skin care. Cioè, perdonate la mia capigliatura leonina ma ho deciso di non asciugarmi più i capelli con il phon perché mi sono rotta le balotas e quindi le ho fatte asciugare nature, ma non mi dispiace e sto pensando di far crescere anche un po' i capelli. Vediamo quanto resisto perché ho i capelli lunghi, non ho mai resistito tanto, ma torniamo a noi. E quindi avevo chiesto notizie a lei di quali profumi potessi trovare, poi sono andata un po' nei vari video spagnoli di ragazzi e ragazze spagnole dove parlavano di questi profumi e ho dato la lista in mano a Paolo che per lavoro doveva andare quattro giorni a Barcellona. Che fortuna! E il suo albergo era a 50 metri da questo centro commerciale Mercadona. Quindi nel tempo libero l'ho mandato in una scoperta. L'ho mandato in una scoperta, è entrato, ci siamo fatti una telefonata, poi la linea continuava a dire insomma è stato peggio che un parto comprare questi quattro profumi e poi aveva Paolo il problema di riportarli in Italia. Però gentilmente le ragazze che c'erano in hotel, lì alla reception, gli hanno detto che avrebbe potuto portare fino a un litro di prodotto diciamo, diviso in boccettine da 100 ml, perfetti, quindi sono i profumi, direi perfetto. L'importante è che fosse in buste trasparenti che potessero vedere che cosa contenesse insomma. E quindi vabbè, lui dopo un po' si è scazzato. Due profumi glieli ho detti io e gli altri due li ha scelti di sua iniziativa e devo dire che ha scelto bene. Quindi questo è proprio un video chiacchiericcio, vi faccio vedere che cosa mi ha portato. Li ho provati ma veramente molto molto velocemente però ero troppo contenta di mostrarvi questi profumi che arrivano da un altro stato. Io non ho mai viaggiato, ho viaggiato pochissimo, veramente molto molto poco e quindi quando lui ha detto che andava a Barcellona niente, mi sono informata su cosa potesse acquistare. Non so se voi conoscete questi profumi, io non li conoscevo però adesso ho delle colleghe di Paolo che a mia richiesta potranno fornirmi tutto quello che vorrò portare a casa e me li spediranno. Quindi adesso andrò un po' anche alla scoperta di queste fragranze che sono ovviamente alcuni dupe di profumi famosi e altri invece sono profumi della loro linea insomma. Partiamo da quelli più semplici ovvero mononota ma che visto l'arrivo dell'estate e delle temperature calde così mi hanno attirato perché poi lui mi faceva il video, le fotografie, sì vabbè ci siamo divertiti diciamo così. e ho preso questo che è della linea monogotas che presumo voglia dire mononota, fin qua forse ci arrivo ed è cocco. Cioè qui c'è dentro un'unica nota che è la nota del cocco. Sono profumi davvero molto molto carini perfetti per l'estate, qua ce li spruzziamo. È proprio un bellissimo cocco, un cocco fresco, anzi quasi più che cocco direi la bevanda al cocco, cioè il latte che c'è all'interno della noce di cocco. Molto buono, molto molto leggero ma secondo me è perfetto davvero da portare così in estate. Guardate che carina anche la boccetta. E soprattutto per fare layering con tutti i miei profumi agrumati, fruttati, secondo me viene una meraviglia. Non ci ho ancora provato perché le temperature qua non è che siano state proprio... anzi colgo l'occasione di questo video perché so che ci sono alcune amiche che abitano nel territorio dove è arrivato oggi il terremoto e spero che comunque nonostante la paura, nonostante lo spavento stiano bene e non sia successo nulla di troppo grave. Ecco, vi abbraccio e vi sono vicine. Speriamo davvero che si concluda tutto con qualche piccola scossa. Mi raccomando fatemi sapere se da voi va tutto bene. E niente, quindi stavo dicendo, questa per me è proprio perfetta, una fragranza perfetta per l'estate. Altra fragranza che ho scelto sempre mononota è la vanilla. E questa mi aveva fatto la fotografia e quindi ho scelto carino. C'è anche il firma... spruzzo, non so come si chiama, il blocco. E questa è una semplicissima vaniglia. Anche questa, l'unica nota, è la vaniglia. Una vaniglia non dolcissima. Sembra quasi di sentire un fondo biscottato. Un biscotto alla vaniglia. Buoni. E questi due profumini li ha pagati 4 euro l'uno. E sono da... vediamo se io vedo. Dovrebbero essere 100 ml, ma non ci vedo. Questi non avevano la confezione... Sì, 100 ml, è scritto davanti. Non avevano la confezione, erano sugli scaffali, così. E c'erano tantissime note. C'era il lime, c'era il melone, c'era l'anguria. Però vabbè, già voleva prendermene solo due. Gli ne ho fatti aggiungere altri due a sua scelta e quindi va bene così. Grazie Mauri che mi hai portato sotto mio consiglio un regalo. L'altro profumo che adoro tantissimo, la confezione. Le scatole non ci sono più perché Paolo ha dovuto toglierle dalle scatole e quindi poi lui non me le ha portate a casa. Le ha buttate via. Le ha rotte tutte e le ha buttate via. Ma fa niente. Allora, questo è Soplo. E Soplo dovrebbe essere... Sono andata a cercare sui video, appunto, degli amici spagnoli. Il dupe di Emporio Armani, sci di Giorgio Armani da donna. L'ho spruzzato in queste sere ed è un profumo elegantissimo. Io sono andata a ricercare così le note su Fragrantica e ho trovato che le note di testa sono Agrumi e Pera. Le note di cuore sono Eliotropio, Cardamomo, Angelica e Gelsomino. Le note di base sono Muschio Bianco, Mandorla, Vaniglia, Leno di Cedro e Ambra. Io non conosco il profumo originale, ma questo profumo mi è piaciuto tantissimo perché è elegantissimo. L'ho messo l'altra sera dopo la doccia. È buonissimo. Allora, si sente la nota della pera, ma poi diventa un bel fiorito, anche direi speziato, perché il cardamomo quando è nei profumi comunque si sente. E poi rimane un muschiato, talcato, vanigliato. Però è veramente una prima impressione perché non li ho ancora provati, non li ho testati, non ho fatto tutti i miei giochini vari. Comunque mi piace tantissimo, guardate che bella. E quindi se qualcuno dovesse andare nei paraggi di Barcellona o comunque in Spagna dove ci sono queste catene, magari li può anche provare. L'ultimo profumo, ecco, questi due mi pare che avesse detto il costo era, non si ricordava se uno 8,50 e l'altro 9,50, una cosa del genere. Comunque al di sotto dei 10 euro sicuramente. Eccoli qua. E l'altro invece è Rose Nude, che è il dupe di Chloe. E io ho avuto Chloe per tanti anni, l'ho portato per tanti anni, e vi devo dire che spruzzandolo lo ricorda davvero, davvero tantissimo. C'è... Buonanotte. Sono andata... Sì, 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 sì. Sì, ragazzi, questo sono certa che è molto, molto, molto simile a Chloe. Perché il profumo di Chloe è quello che è uscito da questo spruzzo che è andato dove voleva lui. Ma spruzziamocelo anche. Che buono che è. Allora, Chloe è un profumo... È un profumo che ha fatto anche un po' una storia, no? È buonissimo. Ha la fresia, ha i lici, la peonia, poi c'è anche questo... Questa nota di rosa, mughetto, magnolia. È comunque un fiorito, ma non è un fiorito pesante. È un fiorito proprio adatto alla primavera, all'estate. Molto leggero, ma persistente. Nel senso che quando lo indossate si sente. E... È un bellissimo profumo. Quindi io sono contentissima che di sua spontanea volontà abbia scelto il dupe di Chloe e il dupe di questo profumo che invece non conoscevo che è Emporio Armani, sci di Giorgio Armani. Bene, era solo proprio un video per fare una brevissima chiacchierata. Vi saluto, io vi ringrazio e volevo anche ringraziarvi perché mi piace tantissimo lo scambio di commenti che state facendo anche tra di voi, no? Qualcuno risponde, chiede una cosa, un'altra risponde, aiuta. Mi piace davvero tantissimo. È proprio questa la comunità che piace a me. la comunità che vuole condividere, la comunità che non è gelosa dei suoi segreti, che se c'è anche qualcosa da dire che non va, lo dice, ma in maniera educata e perché si possa costruire qualcosa insieme di meglio. Quindi, bellissimi gli scambi che avete avuto, bellissimi anche tutti i messaggi in privato che mi state mandando perché oltre al video e oltre a quello che io posso trasmettere a voi anche voi regalate davvero tantissimo a me e questa è una cosa ed è forse la cosa più bella, presumo sia la cosa più bella di poter fare appunto questi video. Non è un lavoro, è solo un divertimento però è anche bello che da un divertimento, da una condivisione piacevole nascano delle belle amicizie così perché si sta parlando magari di un profumo, di un prodotto o di qualsiasi altra cosa. Ebbene, mi sono già dilungata troppo questi gli acquisti che ha fatto il signor Mauri tornando da Barcellona e sicuramente con il puntello adesso che ho là tramite le colleghe di Paolo potrei anche provare cose nuove, non soltanto profumi perché poi c'era di tutto, c'erano prodotti per la skin care, il make up, però vabbè già secondo me lui ha fatto un passo verso la vetta altissimo. Bene, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!